Tu uscivi dell'infortunio, che ti ho obbligato che giravi, che lui si allenava cent'ore al giorno, è un motivo per cui... Ma che cacchio stai? Stai qua che sto raccontando una stagia? Ascoltami, aspettiamo fuori, e scresce prima Pato, perché si era infortunato che si stava allacciando una scarpa e si è strappato, poi è uscito Gattuso, VENNEI A FANNULER! Vero mi ricordo quella che c'era, a un certo punto vado giù su Dio, un'ombra, io vedo un'ombra e vedo Dio, e io ho l'ombra dietro, mi giro, ora lui è alto, lui è proprio alto, hai visto quando li abbracci assieme ai bambini? Dai vieni qua bambini, e sai così, io mi giro, lo guardo, sono anche più grande, lui ha detto ci facciamo una foto in sé, mi aspettavo, ok sì, dai fai questa foto e vai via, ma da ssangulo va! Questo è il capito, e lui? si invadi quel ragazzo! Lui è un bambino, poi lui ha fatto la foto con Pappa e gli ha detto vedrai che si sistemerà tutto, bravo, porti una fortuna! Guardi, ci sono i giocatori del Milan che quando lo vedo... grande, grande, ho invitato quelli dell'Inter ma non vengono. No, non vengono, no, è un humor che non... Allora, scherzo, sto scherzando, sto scherzando... Dino, allora, grazie!